in centro questa mattina in via di palma 45 niente poco di meno che coverland coverland sta per la terra delle cover che cosa sono le cover allora io devo assolutamente chiedere a chi è del settore seguitemi allora praticamente hai la sensazione quando entri in questo negozio di avere a disposizione la freschezza la bellezza della gioventù perché la gioventù è una cosa bella ragazze non perdete occasioni no non sia mai diceva mia nonna che qui di calasso è tutto perduto è giusto è giusto che cos'è la cover la cover è un accessorio che serve innanzitutto a proteggere lo smartphone quindi da tutti gli urti le cadute dalle persone distratte come lucia che lo butta terra ogni tre per due e poi è un accessorio anche carino quindi la possiamo essenzialmente personalizzare e rendere la cover qualcosa un gadget insomma parliamo di quella che la vostra attività voi sapete che tutto nasce dalla casa del rasoglio sì il negozio storico di cristina ce l'abbiamo di fronte sono 40 anni e passa di attività e quindi la nostra datrice di lavoro è un pilastro della città di taranto le cover sono praticamente è quella gente che protegge lo smartphone me lo fai vedere just looking bene abbiamo una parete attrezzata con delle cover non realizzate da noi ma realizzate da alcune aziende quindi non lo so brande tipo iceberg just cavalli marcello burlon e poi lavoriamo su un altro fronte quindi quello della cover personalizzata infatti abbiamo il macchinario che abbiamo acquistato insomma già da qualche anno proprio per rendere le cover un po più carine perché ci sono alcuni modelli di cellulare tipo i samsung e huawei che non hanno cover particolarmente carine perché escono tantissimi modelli uno dopo l'altro allora le aziende investono poco e lì subentriamo noi con la cover personalizzata quindi su ci puoi stampare tutto quello che vuoi questa è per dirti una cover che una cliente ha scelto con una frase di una canzone di vasco mi dico eh perché la vita è un brivido che vola via è tutto un equilibrio sopra la non te la canto perché sennò no vabbè lasciamo pelle se diamo un velo pietoso su questa cosa no vasco grande va e anch'io solo senti serena eh andiamo da un costo minimo di a un massimo di partiamo a un costo minimo di 4 euro e 90 a un massimo di 19 e 90 per prendere una cover brandizzata ora siamo anche in promozione Netti quindi le personalizzate da noi costano 14 euro e 90 con soli 5 euro in più quindi 19 e 90 ne hai due lasciamo avere un numero di telefono che sono mai 099 099 450 9368 stranamente me lo sono ricordata faccio questo effetto vai Lucia voi chiedete di Serena o di Lucia Lucia invece vi prepara lo scontrino per pagare sta alla casa io raccolgo i soldi è un'ottima funzione veramente va bene senti allora questa promozione da quando a quando dura? parte è già partita da un po' e credo che per tutta l'estate noi vi aspettiamo con le nostre promozioni allora quando venite qui in via di Palma 45 da Coverland dite che vi mando io che come al salto vi fanno pagare di più bene certo un po' da piega Grazie a tutti